Cost Cost Calabria 6-7 settembre 2014 Cassano Ioneo E' l'ora della merenda Bivio di Frascineto Morano Calabro Campotenese Inizia lo sterrato Una foto ricordo L'albero della merenda Quelle mele troppo buone Le mangerei pure adesso Ecco che arriva Domenico La salita che porta a piano di Namacco Molto dura Infatti si vede Un bel selfie Piano dell'erba Stiamo arrivando al piano di Novacco Manca poco Foto ricordo Vicino al crocifisso In legno Si fa un po' di merenda Piano di Novacco Piano di Novacco L'erba Il bel continuo Parco del Pollino, i monti dell'Orso Marso La Tavolara Comincia a fare buio, manca poco, stiamo per arrivare Verbi Caro Abbiamo alloggiato in questo B&B le colline Abbiamo fatto una mega dormita e ci siamo riposati benissimo Poi una mega colazione offerta da Egidio Marmellata, cioccolata, brioche, latte Non lo so ma abbiamo mangiato tantissimo per ricaricare energie Parco archeologico del Laos Vivio per Orso Marso Fiume Lao Daniele Egidio Domenico Anton Giulio E la campana Andiamo ora che vi facciamo tutti insieme Avvicinati, avvicinati, avvicinati Fai suonare le campanze un'altra volta Ma che si è fatto con questa caccia di campanze, dove è? Tu a Giro l'hai fatta suonare E fai la suonare Daniele, tu hai la fatta suonare E fai la suonare di nuovo Abbiamo suonato Per chi suonare la campana Per chi suonare la campana Fiume Argentino E Giro in posa per farsi una bella foto ricordo E io non sono da meno Per chi suonare le campanze un'altra volta Per chi suonare le campanze un'altra volta Per chi suonare le campanze un'altra volta La cascata Martirreno Si risale E la stanchezza comincia a farsi sentire Perché la salita qui è molto impegnativa Anche se è bitume Ma si fa molto sentire Finalmente un po' di Relà Laghetto di Mormanno Morano Calabro Ce l'abbiamo fatta Abbiamo fatto cost to cost Dal Mar Ionio al Mar Tirreno In mountain bike A presto Grazie a tutti. Grazie a tutti.